Belsito Hotel Le Due Turri, a mano calzati, a circa 200 metri dall'uscita Avellino Est della Napoli Bari, www.belsitohoteldueturri.it Roma decide, Napoli esegue, l'Irpini attende, non cambia lo scenario nel Partito Democratico, si alza il livello dello scontro interno in vista dei congressi, il nodo resta l'anagrafe degli iscritti. La contrapposizione tra chi spinge per allargare la base del partito e chi invece è determinato a serrare le fila. La giornata di ieri doveva essere decisiva ma la fumata bianca non c'è stata. Da un lato il direttorio De Luca, Paris, Famiglietti e D'Amelio, dall'altro le componenti che fanno capo a De Caro, Festa e Annace. Napoli non è riuscita a trovare una sintesi, la decisione finale senza un concordato arriverà direttamente da Roma. Non c'è accordo su metodi, componenti e rappresentanze, fibrillazioni che nelle prossime ore potrebbero rimescolare le carte, non è detto che alla fine restino tutti i renziani. Si sono già detti pronti a sostenere Orlando e in Irpinia l'ex presidente del Consiglio Comunale Antonio Gengaro e l'ex segretario provinciale Franco Vittoria. Mancano invece i riferimenti di Emiliano ma potrebbero aumentare vertiginosamente nelle prossime ore. Il nodo tesseramento tiene banco anche nelle scelte dei candidati sindaci per le future amministrative. Emblematico è il caso a Tripalda dove il sindaco spagnolo e il vice Tuccia, entrambi democratici, attendono di sapere su quali numeri si celebrerà l'eventuale assemblea cittadina. Ma lo scontro interno è ancora più evidente al comune di Avellino dove lo stallo non solo rischia di far perdere finanziamenti al capoluogo ma in mancanza di accordi, ancora una volta, è la tenuta stessa dell'amministrazione Foti a rischio.